L'avvertenza dei precari storici degli operatori sanitari senza contratto dal 31 gennaio pesa su sistema ospedaliero con un aggravo dei compiti per gli infermieri che denunciano. Prosegue l'avvertenza sui contratti scaduti e non rinnovati in particolare nella ASL Batte di Brindisi. ...e Leo Caroli, responsabili della Task Force per l'occupazione, in vista del confronto previsto per il 17. Oltre 800 os coinvolti che nelle ultime settimane hanno protestato per chiedere a gran voce il rinnovo del contratto per due mesi. Alcune ASL regionali hanno avuto la possibilità di prorogare, altre no, tra queste anche la Batte. Gli infermieri hanno dovuto sostituire alcune attività che prima erano svolte dagli operatori sociosanitari, adesso sono stati addirittura demansionati. Otto giorni senza operatori sociosanitari nei reparti degli ospedali della sesta provincia. A sottolineare il disservizio l'ordine degli infermieri che lamenta un aggravio di carico di lavoro su questi ultimi, costretti a svolgere anche mansioni che non rientrano nelle loro competenze. La proroga dei due mesi, secondo l'ordine, avrebbe anche consentito un affiancamento tra nuove e vecchie unità, garantendo un minimo di formazione. Questi operatori non hanno ricevuto una formazione aziendale come ad esempio un corso di vestizione o svestizione nell'area Covid. Sono dei corsi importanti che appunto servono a evitare i contagi tra gli operatori. Dall'ASL fanno sapere che ad oggi su tutto il territorio della Batte sono 21 le unità che mancano all'appello. Ieri a prendere servizio sono stati in 18. Per quanto riguarda la formazione, invece, aggiungono dall'azienda sanitaria i neoassunti, posseggono adeguati titoli in quanto vincitori di concorso. Intanto nel pomeriggio un sitino a Bari dei precari o sono rinnovati davanti al Palazzo della Regione.